Ben ritrovati, come va, come va, che sensazioni avete? Partiamo subito, ditemi che sensazioni avete. Io sinceramente mi approccio alla gara di stasera che, apro e chiudo parentesi, vi racconterò se vi va in diretta a QSVS, vi aspetto numerosi, con curiosità. Qualcuno di voi ieri mi ha scritto, ho curiosità, effettivamente io ho curiosità, perché stasera ci può dire cose. La gara di stasera ci può dire cose positive, speriamo non negative, sarebbe importante non perdere. Se vinci stasera, ragazzi, è una prova di forza che ci dà consapevolezza a livello europeo, ma anche a livello nazionale. Cioè dici, caspita, allora si può da fare davvero sul serio a diventare grande squadra. Se pareggio, ovviamente, è un risultato che può essere positivo, anche perché ricordiamo che loro hanno perso, credo, una gara nelle ultime 60, qualcosa del genere. Striscia incredibile, hanno fatto soltanto una sconfitta. Se perdi, non dico che non hai nulla da perdere stasera. Ci può stare, poi dipende anche come, perché il campo è tosto, contro una squadra tosta. Però spero di togliere le soddisfazioni stasera e di venire a casa, poi, con ulteriori consapevolezze. Cioè, la gara di oggi ti può far fare un ulteriore salto sul progetto, la credibilità, l'autostima, la fiducia, la considerazione. Speriamo, speriamo che i nostri riescono a fare quella che secondo me sarebbe quasi un'impresa. Perché, ripeto, in quel campo, contro quella squadra, nell'ultimo anno, anno e passa, c'è stata soltanto una squadra che ha vinto. Una. Qualcosa significherà pure, c'è un trend clamoroso. Mi raccomando, commentate numerosi, lasciate un bel like, iscrivetevi qui. Siamo partiti di maniera un po' diversa. Iscrivetevi da questa parte attivando la campanella. Iscrivetevi anche al mio canale di personale Breaking News, che trovate qui sotto, nel link in descrizione. Se vi va, sbilanciatevi anche su un pronostico. Personalmente non ho sensazioni particolari. Ripeto, ho curiosità. Detto che, se mi obbligano a decidere, devi vincere o la gara di oggi o quella di domenica, io vinco quella di domenica con la Fiorentina. Campionato che può essere un obiettivo più concreto per il Milan. Però bisogna passare, accedere alla fase successiva. Cioè, quantomeno gli spareggi. E non uscire e arrivare negli ultimi otto di questa nuova forma di Champions League. Assolutamente no. È chiaro che però, ecco, se oggi perdi, hai zero punti dopo due partite, te ne rimangono quattro in cui non puoi sbagliare. Quindi la pressione a quel punto diventa forte. Ci sono osservati speciali, sì. L'off tour chic, io voglio una partita a livello europeo. Ho ancora nel cassetto dei bei ricordi quella contro il Paris Saint-Germain, in cui lui fa una partita top da centrocampista clamoroso. Spero che possa riproporla stasera. Dipende sempre un po' anche dalla posizione. Però l'atteggiamento non deve mancare. Il carattere, la voglia di sudare che abbiamo visto in Morata, seppur non sia quella la sua caratteristica, la peculiarità principale, ha dimostrato applicazione e sacrificio. Morata è davvero giocatore top, che sta avendo un atteggiamento fantastico. Lo voglio vedere stasera in l'off tour chic. Voglio vedere un cambio di marcia anche da parte sua. È entrato bene nell'ultima gara. Oggi l'occasione riparte dall'inizio e deve fare bene. Quindi l'atteggiamento, l'applicazione e le attitudini devono essere perfette. Torna poi Pavlovic, un rientro con due partite in cui è stato in panchina di Pavlovic, che per me resta un difensore forte, un acquisto azzeccato. Forse arriva più tempo per inserirsi in un contesto complicato, ma sono curioso di vederlo in una macchina che ora funziona meglio. Perché lui è entrato e faceva bene in una squadra che non funzionava. Oggi è una squadra che sta funzionando. Quindi lui, entrato magari in un meccanismo più oliato, mi aspetto che possa fare bene. Giocherà al posto di Tomori, quindi con una difesa con Gabbia e Pavlovic. Coppia che può essere interessante. In una stagione in cui, secondo me, servono i tre cotitolari. Quindi io considero Tomori, Gabbia e Pavlovic tre cotitolari. Sperando che possa entrare nei ranghi anche quel ciao che Mina voleva far partire la scorsa estate. Non sono arrivate offerte vere e concrete, accettabili ed è rimasto. Speriamo che anche lui possa tornare a livelli importanti e diventare anche lui un cotitolare. Perché c'è bisogno di tutti. Soprattutto in una stagione come questa, in cui ci sono tante partite. Speriamo tantissime. Significherebbe essere andati avanti anche in Europa. Ricordando che questa volta, se non passi, poi non vai più in Europa League come è successo invece lo scorso anno. Con un percorso che poi è stato deludente per l'eliminazione per mano della Roma. Morata non al top. Quindi è giusto che si rimetta al top. Anche perché, ripeto, c'è bisogno di un Morata in grande spolvero domenica sera in una gara delicata contro la Fiorentina. Non sto snobando la gara di oggi, però non si può pretendere che giochino anche sempre gli stessi. Tra l'altro è un sistema di gioco molto dispendioso in cui tutti sono chiamati al sacrificio, alla corsa, a recuperare, a rincorrere gli avversari. Quindi Morata oggi non è al top. È giusto che non giochi e che recuperi per la gara di domenica o magari oggi subentri all'occorrenza e possa dare il suo contributo. Magari decisivo anche dalla panchina. Però è impensabile pensare che giochino sempre gli stessi. Quindi un turnover forzato sì, ma è anche giusto. Bisogna distribuire le energie e oggi è inevitabile. Quindi mi dispiace, ma non sono così dispiaciuto che non giochi Morata. Anche se in questo momento il giocatore è più in forma del Milan là davanti. Però bisogna anche lui di riposare, di recuperare e ricaricare le pile. L'Oftus è uno che serve e speriamo che oggi possa essere per l'Oftus la gara di un nuovo inizio importante. Voltando pagina ragazzi, due notizie. Una riguarda il vendor loan, l'altra riguarda invece una situazione che da ieri è ufficiale un po' sorpresa. Perché? Che cosa è successo? Intanto devo recuperare una cosa. Cosa è successo? Che da ieri, purtroppo per fortuna dipende dai punti di vista, è ufficiale la bocciatura della proroga del decreto crescita. Che valeva per tutti i giocatori arrivati entro il 27 dicembre 2023 in Italia. Con un emendamento c'era la proposta di modificare la data sostituendola con il 31 dicembre 2027. Quindi prolungare di altri tre anni. C'era grande ottimismo per questo ennesimo tentativo di rientrodurlo, ma di fatto è stato subito bocciato al Senato. I benefici quindi spariranno del tutto. Tranne che per quelli che sono arrivati entro il 31 dicembre 2023 che ce l'hanno ancora in corso. Ad esempio per il Milan, Pulisic, Loftus, Cic. Però vengono meno i vantaggi fiscali e significa che a questo punto ufficiale verrà meno, sarà più difficile arrivare ad esempio ai Pulisic, ai Loftus, Cic. che ci sono altrove. Giocatori che magari sono in esubero altrove, non così centrali, te li porti qui e Pulisic soprattutto è stato un acquisto pazzesco. Più complicato perché poi l'ingaggio non ti costa 5,5 ma ti costa 8. Quindi c'è a ogni stagione Pulisic sarebbe costato diciamo 2 milioni e mezzo di euro in più. Per 4 anni sono 10 milioni di euro in più. Sarà più complicato, non impossibile, ma più complicato. Club rimasti molto delusi perché sembrava che questa volta ci fosse disponibilità. Anche perché era una rimodulazione con il decreto crescita valido soltanto perché aveva ingaggi superiori al milione di euro. Quindi non avrebbe intaccato i settori giovanili in cui in certi casi si preferiva magari il giocatore ganese rispetto a quello italiano perché quello ganese ti costava poco rispetto a quello italiano. Quindi c'era questa idea del salvaguardare il serbatoio di giovani, i settori giovanili. Ciò nonostante non è passata e quindi ragazzi sarà più complicato andare a prendere i giocatori bravi. Poi qualcuno dice meglio così guarda gli italiani, ma non è che gli italiani costino tanto meno. Questo è il paradosso, che è un mercato quello italiano in cui appena ti avvicini 35, 40, 45. Il Milan ti fava molto per questa soluzione. Quindi è ufficiale da ieri, addio, addio al decreto crescita, se non per quelli appunto attualmente ancora in vigore. Poi se mi arriva Ricci io sono stracontento, però Ricci se ti accosti ti chiedono tanto, anche se hai il contatto di scadenza appunto tra un anno e questo può essere un beneficio per chi vuole prenderlo. Però hai un potere economico che resta molto inferiore rispetto ai club stranieri inglesi. Prima era inferiore, ora torna a essere da ieri ufficiale molto inferiore. Addio al decreto crescita. Questa volta credo che sia la pietra tombale su questo vantaggio che, diciamo così, rispetto a questioni di reti tv, tassazione, eccetera, fiscalità, era un rimedio rispetto al calcio estero. Voi da che parte state bene o male? Per me è male. Da un punto di vista egoistico, milanista, sarebbe stato meglio avere, perché altrimenti, ripeto, i Pulisic fai fatica ad andare a prenderli. Potresti prenderli, ma i nostri magari fanno fatica ad andare a prenderli. Poi ragazzi, la questione legata al vendor loan. Che cosa succede? Del vendor loan è, diciamo così, il debito che Cardinale deve restituire entro agosto 2025 a Gerry Cardinale. Ah, scusate, a Elliot, che è ancora in orbita Milan, è ancora nel Milan, la cui emanazione in società si chiama soprattutto Giorgio Furlani. Ecco, ricerca approfondita dell'avvocato Felice Reimondo sul suo sito, che scrive Dal bilancio depositato presso la Camera di Commercio Olandese, è possibile verificare che al 30 giugno 2024 il debito di ACM Bitco è salito a 634 milioni di euro. Al 30 giugno scorso. Circa 49 milioni di euro in più rispetto agli ultimi 585 milioni del 30 giugno 2023. Quindi, in un anno, il debito è salito di quasi 50 milioni di euro. Come normale in questi casi, dato che il tempo è denaro, al 30 giugno 2025 il debito di Redbird nei confronti di Elliot salirà a circa 688 milioni di euro. E, tra capitale e interessi, arriverà a toccare quasi 700 milioni alla scadenza del rimborso fissato al 31 agosto 2025. Questo è un calcolo matematico, approfondito dell'avvocato, che quindi ci dice che cosa? Che è una corsa contro il tempo di Cardinale, che più passa il tempo più lui deve pagare. Non aver trovato soci, investitori, o aver ritrovati magari, ma che non sono potuti entrare per la via dell'indagine, della quale abbiamo parlato nel video precedente, è costato 50 milioni in un anno. Ora sta costando qualcosa come 4 milioni di euro al mese. Lui si è ricavato 4 milioni dal bilancio, ma è, diciamo così, quello che costa, aumenta il tasso ogni mese, gli interessi di 4 milioni di euro. Tra un anno, a giugno, saranno 688 milioni di euro. Scadenza avendo ron 31 agosto 2025, quindi ottobre intero, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, 11 mesi, ma non è una cosa che fa gli ultimi giorni, arriverà a, in pratica, 700 milioni di euro. Che è una cifra, è una cifra, è una cifra importante, che dice, sì, ma lui sposta tanto i soldi, si calma. Se però fosse riuscito, avrebbe trovato subito, avrebbe evitato di pagare 50 milioni di euro in più ogni anno. 50 milioni sono tanti. Quindi è una corsa contro il tempo di Cardinale, che spera, in che cosa? Di trovare soci investitori, per avere più respiro, e magari, appunto, liquidare Elliot. Spera, nel discorso stadio, perché se si sviluppa qualcosa nei prossimi mesi, è più facile trovare soci investitori. E spera, in questo senso, che l'indagine sul Milan finisca in tempi brevi. Come aveva chiesto, in presa diretta, a stretto giro di posta, a marzo, Furlani. Va bene, siamo sereni, ma che facciano in fretta, perché questo crea un danno al club. Quindi, ragazzi, sono 11 mesi scarsi, che ci diranno molto. Ci diranno se Cardinale, tra 11 mesi, sarà ancora in sello, oppure no. Una cosa, spero, però. Ecco, è importante. Perché la scadenza è 31 agosto, quando il mercato sarà finito. Quando, però, il mercato, negli ultimi mesi, sarà eseguito. Non vorrei trovarmi, come quando subentrò Elliot, che Leonardo fece mercato in tempi strettissimi. Non vorrei trovarmi nella stessa situazione. Cioè, una cosa che forse non è stata detta. La scadenza è delicata, perché lì ci potremmo trovare con un cardinale che non ha respiro per arrivare alla soluzione, ma di conseguenza quindi non fa mercato. O un cardinale che magari riesce a sistemare le cose all'ultimo, compromettendo però al mercato. Sul tema mercato, ecco, la scadenza purtroppo non è un fattore di aiuto. Anzi, può essere un freno molto pericoloso. Perché cosa ti fate? Scrivetelo qui sotto nei commenti. Lasciate un bel like, iscrivetevi qui, attivate la campanella. Ripeto, corsa contro il tempo. E la cifra esatta è, in pratica, 700 milioni di euro. Occhio. Occhio. Iscrivetevi, ditemi anche che le sensazioni avete su stasera. La situazione del creato crescita. Commentate numerosi, lasciate un bel like, iscrivetevi qui. Vi rimando anche al video precedente con altre novità sul tema curva. Iscrivetevi anche al mio canale personale. Stasera QSVS. Vi aspetto. Ciao.